Abbattuta qualche decennio fa che era la seconda che ha detto diciamo no perché effettivamente se uno va a vedere c'è un contributo ovviamente se vede i numeri assoluti cioè il numero di positivi al giorno ovviamente c'è un'influenza del numero di test effettuati diciamo no? Però se uno va a considerare il rapporto tra i positivi e di test effettuati e io in questo caso però considero solamente i molecolari perché diciamo sia per quanto riguarda la sensibilità professore abbiamo appena dato il dato di oggi comunicatoci dal professor Cartabellotta 50,4% cioè se consideriamo solamente i test molecolari su due test molecolari uno è positivo. Sì sì diciamo e appunto dicevo che li considero separatamente sia perché hanno una sensibilità diversa ma anche perché la sottopopolazione che va a fare il test molecolari è diversa principalmente chi fa il test rapido sono persone che giustamente io ammiro vogliono cautelare soprattutto gli altri ma anche se stessi da un possibile contagio. Chi va a fare il molecolare invece probabilmente già sta in una condizione dove il rischio di aver contratto o la malattia o essere stato infetto o essere stato vicino a un positivo comunque il rischio di essere positivo è più alto a priori diciamo di chi fa un molecolare. Quindi considerati separatamente però quello che si vede è che se uno considera la percentuale di positivi ai test molecolari fino a circa metà della settimana scorsa crescevano a parte le fluttuazioni quelle casuali ma anche quelle periodiche dentro la settimana però uno se vedeva la media cresceva con ottima approssimazione linearmente. Dalla settimana scorsa invece c'è stata una grossa impennata allora questo mostra che c'è un contributo del dei test ma non si vedeva fino a un paio di settimane fa e lo si vede ora quindi il cambiamento che c'è ora è genuino ed è dovuto molto probabilmente alla diffusione della variante Omicron. Quindi se uno va a vedere chiaramente solamente i positivi l'incremento partiva prima partiva con la grande spinta al testing legata agli incontri natalizi diciamo insomma c'era anche un contributo dovuto alle attività pre natalizie però ecco quello che macroscopicamente si vede lo si vede da la settimana passata a oggi praticamente. E questo è al netto dei test effettuati lo si vede chiaramente ed è quindi la variante Omicron quindi questa è un po' la risposta. La risposta è che c'è un contributo chiaro ed evidente sostanziale al numero di positivi dato dal numero di test effettuati ma al netto dei test effettuati c'è un aumento della percentuale di positivi che è dovuto probabilmente a visti i tempi così rapidi perché la curva è veramente una grossa impennata alla grande diffusività della Omicron. Poi la cosa che ho detto prima è chiaro che ci fa ben sperato a un punto di vista diciamo di percentuale però come numeri assoluti è ovvio che se è più diffusiva ma meno letale comunque il numero di decessi al giorno è alto ovviamente perché seppure la letalità quindi diciamo percentuale rispetto ai positivi è bassa però i positivi sono tanti e quindi il prodotto dei due che ci dà il numero di decessi al giorno è alto diciamo. Quindi questo è il discorso però chiaramente va visto tutto in proporzione nel senso che in questo modo in questo modo se uno riesce a limitare con i vaccini i casi gravi quindi quello bisognerebbe fare con i vaccini limitare i casi gravi e limitare anche comunque a priori la diffusione. Però diciamo se si diffonde molto e diciamo arriva anche in chi non si è vaccinato però l'obiettivo maggiore è far arrivare questo virus non farlo arrivare per niente. Se deve arrivare che arrivi a chi subisce danni inferiori per far questo vaccinare soprattutto con tre dosi perché si è visto che con due dosi non ce la facciamo ma questo era già una evidenza già ce l'avevamo con la delta perché con la delta se vi ricordate lì in quel caso non era con due dosi la riduzione della efficacia del vaccino ma è con una sola. Si passava da circa il 70 per cento con una sola dose al circa il 30 35 per cento quindi già c'era stata per la delta un'evoluzione del virus verso la direzione di resistenza al vaccino. Adesso si è spostato da due a tre dosi diciamo quindi la dose la terza è necessaria farla perché con tre effettivamente l'efficacia del vaccino è quella che uno vuole 90 95 per cento diciamo. Quindi questo è chiaro che questo ha un costo sia in termini appunto economici ma anche in termini di organizzazione però adesso praticamente abbiamo il picco di quelli che avevano finito la seconda dose 4-5 mesi fa. Quindi stiamo raggiungendo un elevato numero di vaccinati di terza dose. Un altro errore secondo me che è stato fatto oltre a quello di non chiudere subito le frontiere perché da noi prima dello sviluppo della variante Omicron che è molto recente c'è stato lo sviluppo della variante delta attraverso i flussi dalle frontiere con la Slovenia e con l'Austria. Ci siete ancora? Sì sì lo ascoltiamo. Sì sì con l'Austria dici quello è stato un errore. Un altro errore secondo me che è stato fatto è di non immunizzare adesso se uno va a vedere l'età media dei contagiati a me anche un po' dei malati è molto bassa e quindi un errore che è stato fatto dal mio punto di vista è non mettere il Green Pass nella fascia 12-19 anni e lasciarlo solo dai 19 in su perché capisco i più piccolini. Non c'era prima la possibilità di vaccinarli e adesso alcuni genitori sono un po' titubbanti però c'è stata una fase in cui erano stati vaccinati più di 2 milioni di ragazzi tra i 12 e i 19. Quindi per quanto riguarda la sicurezza c'erano dati più che sufficiente stiamo parlando di milioni non degli studi con alcune decine migliaia di casi quelli preliminari. Questi sono dati reali su 2 milioni di persone almeno con non effetti gravi e quindi diciamo le remore magari dei genitori a far vaccinare ragazzi di questa fascia d'età non ci sarebbero state e però ecco avremmo avuto un 2 milioni e mezzo di persone in meno che veicolavano. Questo insomma non è stato non è stato fatto diciamo quindi... Senta professore, ma con questi dati che stiamo avendo 100.000 persone al giorno significa che entro tre mesi avremo in qualche modo contratto tutto il virus? Beh no, diciamo che adesso chiaramente non è che stiamo a guardare, no? Chiaro che succederà quello che è già successo in Sudafrica, lì bisogna tener conto che c'è la componente climatica che Sudafrica sta diminuendo. Tiene presente che il Regno Unito è in crescita ma in crescita frenata diciamo. Quindi, e tiene presente che oggi ho analizzato le province italiane che hanno avuto un incremento significativo tra gli ultimi sette giorni e sette giorni prima e ce ne sono 37. In testa c'è Milano, c'è Torino, Roma, Rieti, Viterbo, ce ne sono un po' distribuite su tutto il territorio nazionale insomma. Però ecco, tenete presente che abbiamo due province che sono la provincia Dona di Bozzano e la provincia di Trieste dove l'incidenza è in cavo. Questo per via delle misure di contenimento, Bozzano l'ha messa addirittura prima che venissero istituiti a livello del CTS diciamo insomma, no? È intervenuta prima. Quindi questo per dire che laddove poi si interviene l'effetto c'è, non è un sistema che evolve per conto suo e poi. E tenete presente che in Friuli la discesa della curva dei recuperati è avvenuta prima dei famosi 14 giorni a partire dall'ingresso in zona gialla. Il che vuol dire, testimonia che le persone da sole avevano assunto, alla luce del peggioramento della situazione in cui la regione avevano assunto dei comportamenti e creato un effetto macroscopico. Capito? Quindi è chiaro che noi non staremo a guardare sia a livello di istituzioni con l'introduzione delle varie zone con i colori, ma anche a livello di persone. Diciamo questo boom. Di comportamenti personali. Questo boom dei test è una prova chiaramente insomma, no? Questo boom dei test perché adesso lo si fa soprattutto per andare a casa dei parenti, lo stanno facendo in questi giorni. Poi dopo è chiaro che c'è... E' per fare la notte di San Silvestro. E' per fare la notte di San Silvestro, esattamente. Quindi è chiaro che non staremo a guardare, quindi questa cosa come è avvenuto per le altre, nelle altre chiamiamoli pizzi o ondate, raggiungerà un massimo e poi diminuirà. Il problema è sempre lo stesso, è che durante questa fase minimizzare i danni, questa è un po' la nostra cosa. Poi noi c'è da sperare perché il virus ci dà una mano, nel senso che obiettivamente come specie umana non stiamo agendo dal mio punto di vista come dovremmo agire. Nel senso che guardate un attimo da dove sono venute queste varianti. Abbiamo avuto una dal Brasile, due dal Sudafrica, una dall'India, un'altra dal Perù e una solo nel Regno Unito. E' da dimostrare che quella del Regno Unito è stata generata nel Regno Unito, perché nel Sudafrica lo posso dimostrare adesso. Perché Sudafrica l'ha sequenziata per primo, ma se uno vede la curva del Sudafrica, è partita prima di tutte quante le altre curve nel continente europeo e africano. Quindi è ovvio che in questo caso non è che l'hanno solo sequenziata prima, ma l'hanno rilevata prima perché è nata lì. D'accordo, nel Regno Unito non è così, anzi a mio avviso si vedeva una leggera differenza. Io ipotezzo che in realtà quella sia partita dalla Danimarca, la famosa variante inglese, perché se uno vede la curva dell'incidenza della Danimarca e del Regno Unito, si vede che per due o tre giorni è partita prima quella della Danimarca. Il Regno Unito, questo però non lo posso dire con certezza. Per quanto riguarda Sudafrica, sono certo che la cosiddetta variante Omicron è nata lì, non è solo Stato. E questo cosa vuol dire, professor Sebastiani, cosa vuol dire Sudafrica, India? Esatto, esatto, sì, certamente. Torniamo, ho fatto un volo vindarico, torniamo al punto. Il punto è che di queste varianti solamente una, in modo sospetto, neanche certo, è nata nel continente europeo. Sono nate tutte in situazioni dove nel Brasile non hanno potuto neanche fare il lockdown, perché le persone non possono stare a casa, perché ci sono persone che guadagnano quello che serve per mangiare ogni giorno, ogni giorno che hanno risparmi, capisce? E quindi sono situazioni dove ci sono le condizioni peggiori in generale, perché sono tante persone a contatto tra loro, perché stiamo parlando in India, sono miliardi addirittura, insomma, l'avete visto con la variante Delta. E in condizioni igieniche, insomma, che sono in Africa, ma anche in India, le persone forse muoviono anche di più che non del Covid, e lo facevano già da prima, e quindi popolazione molto alta, standard economici, condizioni economiche, standard sanitari molto bassi, e quindi è ovvio che c'è un proliferare di un grande livello di contagio, e quindi aumenta la probabilità che ci siano delle varianti nuove. Non sono neanche vaccinati, professore, e non si riesce a vaccinarli. Bravissimo, un altro elemento che c'è è che la percentuale è bassissima, perché in Africa non arriviamo al 10%, da quello che mi risulta. Poi ci sono delle variazioni, anche nel Sudafrica, chiaramente c'è il Sudafrica ricco, dove la percentuale sarà molto alta, ma se uno va nella periferia della capitale, o anche nelle zone al di fuori della capitale, io credo che la percentuale sia veramente molto bassa. E quindi tutti questi componenti fanno sì che sono le condizioni più vantaggiose per il virus di replicarsi e mutare in una versione che potenzialmente può essere più dannosa per noi. E perché, dicevo, noi non stiamo agendo a livello di specie nella maniera più razionale? Perché dovremmo veramente investire tantissimo per vaccinare, ma in modo più omogeneo possibile, tra virgolette, investire veramente tanto in questo, perché altrimenti ci avremo sempre una nuova variante, staremo sempre rincorrendo una nuova variante. Ci potrebbe dare una mano il virus laddove si sviluppi una variante molto diffusiva, ma veramente con una detalità molto bassa. Adesso questo probabilmente non è il caso della Omicron, perché comunque la detalità della Omicron non è bassissima, stiamo adesso appunto in Sudafrica, sono 7,7 ogni mille. Però quella apparente, ovviamente, quella reale sarà, diciamo, probabilmente più bassa perché i positivi saranno di più lì. Però, ecco, c'è da sperare che questa naturale vita e evoluzione del virus verso nuove varianti lo porti a una condizione di alta diffusività e quindi che induca una immunità e a una bassa letalità. Adesso questa Omicron, io spero che sia, oltre che far danni come sta facendo, perché siamo, oramai la media di 100 l'abbiamo passata, di decessi al giorno, non ci dobbiamo scordare. È vero che noi stavamo anche a 4,500 per diversi mesi, però, insomma, sono sempre tanti, ma anche forse 10 sono troppi, capito? Dobbiamo sempre lottare perché sia il numero minimo possibile. E quindi si spera che comunque induca una immunità in chi si infetta e però non ha sintomi gravi. E noi dobbiamo essere bravi, non nell'ottica generale che dicevo io, ma almeno a tamponare un po'. L'idea che mi sto facendo è che noi stiamo comunque tamponando delle falle, non stiamo veramente cercando di risolvere in maniera radicale la situazione. Quello comporterebbe una vaccinazione di massa che però appunto presuppone degli investimenti in termini di risorse economiche e umane per, diciamo, attuare questa vaccinazione. L'altra alternativa è lo sviluppo di farmaci che abbassino la capacità di replicarsi del virus, per esempio. Stanno facendo degli studi in quella direzione, ovviamente. diciamo, vanno cercate tutte, studiate tutte le armi più efficaci. Quindi, professore, rispetto al suo auspicio, all'auspicio che lei aveva espresso a novembre, un mese fa, quando aveva detto che speriamo che la variante Omicron sia quella variante che trasformi questa pandemia in malattia endemica. Oggi, 29 dicembre, lei non se la sente di dire che è questa la variante che, tra virgolette, lei diceva prima, ci darà la mano. Dobbiamo aspettarne un'altra. Probabilmente dobbiamo aspettarne un'altra. Già per dire che questa, diciamo, ci sono molti più dati man mano che le settimane passano. Adesso, ripeto, il Regno Unito, siccome i cambiamenti nella curva dell'incidenza avvengono una o due settimane prima dei cambiamenti nella curva della letalità, per poter fare un fit e vedere qual è questa retta e se cambia pendenza, lo si vede molto bene con il Sudafrica, che la retta si abbassa di pendenza adesso rispetto a sei mesi fa. Per fare la stessa cosa nel Regno Unito, mi servono i dati di questa settimana qui e poi avremo ancora più avanti i dati nostri. Le condizioni sono diverse, ripeto. Già per dire solo questo, farà meno a parità di contagiati, farà meno danni, poi in assoluto magari ne fa pure di più perché è molto diffusiva, mi servono più dati. Da quelli del Sudafrica sembra che sia meno letale, diciamo. Però ecco, la letalità a mio avviso dovrebbe essere almeno un'ordine di grandezza più bassa per arrivare a quella condizione che io spero, verso la quale spero che andiamo, perché la condizione che diventa, diciamo, endemica e che si troviamo in una situazione simile a quella dell'influenza non è proponibile perché l'influenza che c'ha è stagionale, d'accordo? Tutto è dovuto a che cosa essenzialmente? Non ci si pensa, ma tutto è dovuto al fatto che il nostro asse della Terra è inclinato rispetto al Sole, per cui noi abbiamo le stagioni. Questo fa sì che noi abbiamo le stagioni, diciamo. Per cui noi abbiamo dei virus che ci rimbalzano dall'emisfero australe a quello boreale, da un anno all'altro, praticamente. E però questa è la condizione dovuta chiaramente alla temperatura essenzialmente, temperatura e umidità, sono i fattori principalmente che fanno sì che ci sia una stagionalità del virus influenzale. E allora in quel caso noi siamo arrivati a una condizione di equilibrio per cui facciamo i vaccini annualmente e riusciamo a tamponare la situazione, a controllare la mortalità che soprattutto è negli anziani, ovviamente. Qui la situazione è diversa perché, come avete visto, già stiamo alla sesta variante grossa, in pratica, quinta o sesta variante grossa, capito? Quindi probabilmente in un arco di un anno ci sono più varianti e quindi c'è la necessità di fare vaccini, ma con richiamo non annuale, più che annuale, ovviamente, diciamo. Quindi a mio avviso la ricerca verso la direzione in cui anche uno cerca di far replicare meno il virus, che è una strategia, poi l'altra è cercare chiaramente di agire sulla sintomatologia, ovviamente, che è un'altra strategia. E poi c'è il vaccino, quindi come strategia generalizzata, cercate di avere più armi possibili a nostra disposizione, perché questa situazione che è appunto diffusa su tutto il pianeta e con una ciclicità che però, sì, c'è una stagionalità, per caso, ma noi non l'abbiamo avuto, mentre il piccolo dell'influenza ne abbiamo uno, essenzialmente nel mese di gennaio e febbraio dell'anno, qui, se uno va a vedere durante l'anno, ha tre, quattro picchi, d'accordo? Se vede, guardate, il Regno Unito, per esempio, il Regno Unito negli ultimi sette mesi ha avuto quattro picchi, solo in sette mesi, capito? E questo è l'ultimo particolarmente grande, perché gli altri tre picchi avevano la pendenza di salita presso a poco la stessa, quindi il modo con cui cambiava nel tempo, cresceva l'incidenza presso a poco, era lo stesso. Quest'ultima ha avuto una grossa impennata per via della grande diffusività della Omicron, ma questo per dire che, appunto, non possiamo seguire la strategia classica con l'influenza, quindi con la vaccinazione annuale, perché qui abbiamo dei fenomeni che avvengono ciclicamente, sì, con una periodicità, c'è una componente di stagionalità, ma poi ci sono anche altri fattori che entrano in gioco, tipo tutti quelli che fanno aumentare i contatti, quindi le vacanze ci abbiamo avuto un picco, poi alcune cose le abbiamo imparate, comunque, ovvio, ma sono abbastanza intuitive, insomma, anche le scuole, quella è un'altra componente che è evidente, insomma, che porta ad un aumento, oramai credo che nessuno abbia più dubbi su questo, insomma, e quindi noi dobbiamo cercare di capire quali sono i meccanismi principali e le armi principali usali al meglio, diciamo, con comunque la speranza, tra virgolette, che il virus muti, perché quella, a mio avviso, visto che non c'è una strategia globale a livello mondiale, ma non c'è neanche a livello continentale, perché capito che al momento l'arma più efficace è il vaccino, abbiamo, non in Europa continentale, ma nella comunità europea, abbiamo situazioni di stati che hanno il 30% di copertura vaccinale, capito, e altri che ce ne hanno intorno tra l'80 e il 90, capito, quindi già non c'è a livello continentale dell'Europa unita, se figuri a livello continentale dell'Europa proprio geografica, se figuri mondiale, quindi, diciamo, la speranza per averne veramente pace, tra virgolette, è quella che ci sia una direzione, che il virus evolvi, verso una direzione di bassa letalità e alta diffusività, diciamo, che induca. Allora, professore, siamo in chiusura, le faccio una domanda, lei, ad aprile scorso, disse, la riapertura delle scuole potrà, di nuovo, favorire tanti contagi, ora si riapriranno le scuole dopo le festività natalizie, con questa propensione di contagi, questa evoluzione di contagi, teme che anche questa volta le scuole possono far aumentare anche i contagi? Ma ce l'abbiamo nei dati, diciamo, se va a vedere l'età media dei contagiati è in quella fascia lì, capito? Quindi questo mostra che lì sta circolando il virus, però anche lì, se fossimo razionali, io per esempio, cosa avrei fatto? Io avrei chiuso la scuola da novembre a febbraio, l'avrei riaperta a marzo, è un'emergenza, non è che dobbiamo farlo, non è che la formula per tutta la vita, diciamo, poi però avrei ripreso i corsi a luglio, anche agosto, insomma, capito? E cercando di stimolare gli studenti, per carità, avrei usato al meglio la didattica a distanza, perché, diciamo, quello è un fattore che si è visto, oramai non ci sono più dubbi che quello è uno dei fattori, così come gli scambi con l'estero, insomma, capito? Ci abbiamo tutti le persone che, non è colpa loro, che lavorano in uno stato e vivono in un altro e ogni giorno fanno avanti e dietro, cioè, per carità, l'influenza c'è stata delle manifestazioni di massa a Trieste, ma parliamoci chiaro, insomma, ci avevamo stati, c'erano il confine con la Slovenia e questa ultima ondata, prima della Omicron, è nata nell'estero dell'Europa, ma lo si vede bene facendo l'incidenza nel tempo. Io ho calcolato pure la velocità con cui si muoveva quest'onda in Italia, d'accordo? E allora, allora, lì, hai capito che quella è una grossa influenza? L'abbiamo fatto tre volte questo sbaglio, l'abbiamo fatto, prima volta con la Cina, perché, che cosa andavamo a guardare? Chi veniva dalla Cina, ma perché non ci può essere a fare un triangolo ed è stato così proprio, capito? Primo errore. Il secondo l'abbiamo fatto nell'estero del 2020, che andavamo a vedere Malta, Corfu, che avevano valori altissimi, perché c'era una densità bassissima, e non guardavamo Spagna, Grecia, Francia, che sono raggiungibili moltissimo e sommete molto ambite, anch'io, sono paesi che ho visitato d'estate tantissimo, e l'ultima volta adesso con questa, cioè, se uno va a vedere la distribuzione spaziale, come si muove all'interno dell'Italia, è ovvio da dove è nata, insomma, d'accordo? e è ovvio che le manifestazioni non è che le fai tutti i giorni, le persone lavorano ogni giorno, capito? E anche, non c'era solo Trieste, ma si vede benissimo che Pordenone, per esempio, che era più interna, c'ha avuto una crescita molto più bassa che non tutte le province della Friuli che confinavano, e ce l'ha avuto anche Bolzano che confinava con l'Austria. Adesso invece c'è la Francia, non è un caso che adesso sia la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria, che sono quelle dove c'è l'incidenza più alta, perché c'è la Francia in confine, diciamo. Allora, alcune cose che abbiamo capite è lì, ma bisogna agire subito in modo efficace. E non ripetere gli stessi errori. Sì, costa, perché costa. Per concludere, sarebbe opportuno chiudere gli eventi di fine anno che si faranno comunque, la gente comunque si diverserà in strada, magari non nei locali, eccetera, ma sarebbe opportuno questa volta a fare proprio un lockdown il 31 di dicembre. So che può sembrare inverosimile per tanti. Però in questa situazione perché sono cose che pagheremo poi nelle prossime settimane. È chiaro, adesso, poi dopo, per prendere le scelte, è chiaro che quello che in matematica si chiama un'ottimizzazione multiobiettivo, deve considerare diversi fattori, diciamo. Io ho presentato quello della salute pubblica, ovviamente, insomma, c'è anche il fattore sociale, la gente è stanca, tutti siamo stanchi, siamo, lo sono anch'io, insomma, però questo non toglie che non mi ricordo, non mi scordo mai della persona che sta male, capito? E quindi questa cosa qua, io la uso sempre fuori, ma anche dentro casa, io in certi casi, mio padre è anziano, io ce la metto quando sto con lui, capito? Perché non voglio correre nessun rischio. E allora, purtroppo, purtroppo andiamo sempre incontro, come ha detto lei, quasi a un braccio di ferro. Io leggevo ora un commento di Grazia che diceva mi dispiace, le scuole sono sicure. Io non so quanto abbiamo, i dati dicono il contrario, poi provate a immaginare questi bambini, dategli, mettetegli addosso una FP2 per le ore, senza reazione nelle classi, con gli insegnanti che entro, noi poi ci fossilizziamo in certe affermazioni. Sono sicuro perché? Perché abbiamo necessità di, in qualche modo, di affidare i nostri figli a degli insegnanti per avere del tempo a disposizione noi. Questo è alla fine il discorso, però i dati dicono il contrario. Gli eventi, noi capiamo le difficoltà dei ristoranti, però, voglio dire, se chiudiamo le discoteche, abbiamo chiuso le discoteche e poi la gente comunque sta in piazza ugualmente assegnata e facciamoli ballare a quel punto, diamo la possibilità anche ai titolari e ai proprietari delle discoteche di fare delle manifestazioni. Quindi, ci sono tante contraddizioni. Oh no, questo... Però, ecco, sulle scuole che aveva detto che non avevo concluso, diciamo, no, sul lockdown che diceva, lo scorso anno è stato messo in atto, l'abbiamo visto, è finito il giorno della Befana praticamente, c'è stato un periodo fino alla Befana in cui c'erano delle misure, forse era addirittura rossa, mi sa, l'Italia, se non mi ricordo male, insomma, e c'è stato un effetto. Dopodiché, l'aria apertura delle scuole ha riportato di nuovo la salita, per questo io dicevo, cerchiamo di, diciamo, poi dopo lo trasliamo, io capisco, c'è il problema degli insegnanti, vabbè, paghiamoli di più gli insegnanti, diciamo, è un momento di emergenza, cerchiamo di limitare al minimo i danni, insomma, che siano minimi i danni. Chiaramente io non sto minimizzando e dico, ah, sarebbe facile, io dico semplicemente che ci vuole una volontà a livello politico, a livello individuale, che purtroppo, diciamo, non vedo, diciamo, c'era nella primissima fase dell'epidemia, da noi questo spirito veramente cooperativo di altruismo, no, di empatia, adesso c'è molto di meno, i problemi ci sono, diciamo, però, insomma, c'è una, dal mio punto di vista, ripeto, l'idea mi sembra che stiamo un po' tappando i buchi, ma non solo noi, è perché ci sono stati tipo il Regno Unito che hanno fatto peggio di noi, perché la mortalità del Regno Unito è più alta della nostra, loro, scientemente, hanno deciso di riaprire quando hanno riaperto all'inizio dell'estate, diciamo, e andavano la mascherina, andavano la mascherina, e loro hanno una mortalità più alta, ripeto, questi picchi, adesso la Omicron sta facendo, ma la curva del Regno Unito aveva questi picchi, ma con i massimi sempre in salita negli ultimi sette mesi, diciamo, capito, hanno deciso così e il prezzo che vogliono pagare, diciamo, che hanno deciso di pagare, tanto, purtroppo i morti c'è chi ce l'ha se li tiene, insomma, capito, quelli non parlano, e noi da quel punto di vista siamo stati più bravi, ripeto, abbiamo fatto degli errori, però bisogna dire che l'incidenza, noi fino alla diffusione prima della variante Omicron per via delle dell'attività prima natalizie eravamo in classifica molto bassa, noi siamo stati anche al quintultimo posto per incidenza a livello dei 43 stati dell'Europa continentale, ripeto, al quintultimo posto, giù, capito, poi siamo risaliti, diciamo, no, e mediamente stiamo più bassi di stati come Francia, Spagna, capito, e quindi il nostro comportamento non è scellerato, però, ecco, diciamo che una maggior razionalità e un maggior, sia a livello, diciamo, istituzionale, con delle scelte che, ripeto, quella della scuola, per esempio, ma non è l'unica, io, quelli che, i gestori di discoteca, ma li capisco, quelli, c'è gente che, loro che, i gestori, ma anche la gente che ci lavora, insomma, e lì lo Stato deve intervenire seriamente, mettendo un fondo di solidarietà, insomma, no, da parte di chi non è stato colpito, che contribuisce, come me, per esempio, insomma, io sarei il primo a pagarlo un fondo di solidarietà, capisce, a dare il contributo del genere, quindi, ha individuato alcuni aspetti che sono critici, la scuola è una di queste, ma non è l'unico, insomma, quello dei trasporti, ah, i trasporti per le scuole, adesso torna alla scuola, ma che si è fatto, diciamo, non si è fatto niente, le classi di Pollaio, ma è rimasto esattamente, poi, se uno vuol dire, la scuola è sicura, può anche dire, però si vada a vedere dove sta il picco della, della, della incidenza, la curva incidenza per età, e si capisce, diciamo, dove è, e, lì, è chiaro, a livello istituzionale, insomma, ci vuole un investimento, oppure, una scelta, ripeto, quella che ho detto prima, per tre mesi, non si fa le lezioni, e si recupera nella parte dove non c'è nessun problema, c'è un costo, per tutti, però, insomma, il sapere, secondo me, c'è un valore maggiore, devi fare un po' meno di vacanza, per uno, due o tre anni, d'accordo, e, poi, non sto dicendo, i problemi non ci sono, perché, se uno vuole fare, dalla scienza, la gente si aspetta, la formula magica, in generale, non c'è la formula magica, soprattutto, non c'è la formula universale, il problema della scuola, il problema della scuola maggiore, è chiaramente nella fascia, fino alla, diciamo, seconda media, di giù, perché lì, obiettivamente, come diceva lei, c'è il problema di fare, stare questi poveri bambini, insieme, che ha la mascherina, o a distanza, ma non è naturale, non è, e, limitare, ok, però, limitare cosa vuol dire? Vuol dire che un genitore deve stare a casa, allora lì devi investire sullo smart working, oppure devi fare, diciamo, degli asili, con un giusto rapporto tra numero di bambini e volume della classe, capito? Bisogna investirci, non si può avere una cosa a costo zero, capito? Questa è un po' l'idea, si pretende di essere come prima, e di non pagare niente, quando la strategia migliore è pagare 10 oggi per non pagare 100 domani, questa è la cosa che uno dovrebbe capire, capito? e io invito tutte quante le persone nel loro piccolo, perché poi il piccolo, io ho fatto l'esempio prima del Friuli, il Friuli, la curva dei ricoverati nelle parti ordinari del Friuli, è cominciata a scendere prima dei canonici, 14 giorni successivi all'introduzione, alla introduzione della zona gialla nel Friuli, questo è la testimonia che le persone hanno dato il loro contributo, prima che le istituzioni lo introducessero in modo formale, capito? Quindi noi possiamo fare tantissima differenza, pensiamo che c'è la gente che può star male, facciamo un piccolo sacrificio, questa mascherina fuori, per esempio, sono state tolte, non so com'è giù da voi, ma a Roma non c'è più il controllo della temperatura, all'ingresso dei centri commerciali, poi l'obbligo della mascherina non c'è, non c'era prima, adesso la maggioranza delle persone di un'età sopra, la usa sotto e la frequenza diminuisce notevolmente, diciamo.